Nel 753 a.C. Romolo, discendente dell'eroe mitologico troiano Enea, fonda sul colle Palatino la città di Roma. È il primo dei sette re che governeranno la città per i due secoli successivi. Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marsi, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Il periodo che li riguarda va dalla fondazione di Roma, fissata nel 753 a.C. fino al 509 a.C. Sono 244 anni. I primi quattro re erano di origine latino-sabina, gli ultimi tre invece erano di origine etrusca. Romolo, secondo la tradizione, crea le prime istituzioni sociali e politiche. Riunitisi sotto un unico re, gli abitanti della città adottano le prime istituzioni politiche, quali il Senato e l'Assemblea Popolare dei Comizi Curiati. Sono questi due organi ad eleggere i re, che quindi non si succedono secondo un criterio dinastico. Il creatore della città, il primo re di Roma, fu Romolo, che è anche il creatore del Senato, in origine formato da 100 membri che erano rappresentanti dell'aristocrazia cittadina, e sempre durante il regno di Romolo viene istituito l'ordinamento curiatico, ovvero la divisione della popolazione in tre tribù chiamate Tizies, Ramnes e Luceres, e ognuna di queste tre tribù era divisa al suo interno in dieci curie. Per un totale quindi di 30 curie, che una volta riunite in Assemblea, avevano il potere di eleggere il nuovo sovrano, confermare il potere dell'attuale sovrano o deporre il sovrano. Sovrano che ricordiamo avere potere politico, militare e religioso, e a seconda di chi sarà a governare, presterà più attenzione ad uno o un altro aspetto della sua carica. Secondo la tradizione, alla morte di Romolo va al potere Numa Pompilio, appartenente alla tribù sabina. È ritenuto il fondatore delle istituzioni religiose. Numa Pompilio introduce le cerimonie religiose e costruisce il Tempio di Giano. E ad esempio, Numa Pompilio, successore di Romolo e secondo re di Roma, presterà molta più attenzione agli aspetti religiosi della sua carica. È infatti ricordato per essere il creatore degli istituti religiosi, quali i sacerdozi e dei diversi collegi, quali possono essere gli auguri, le festali, i pontefici, a capo del quale vi era il pontefice massimo. Una delle cariche più importanti dopo il re in età monarchica. E questo era possibile perché il re era anche capo spirituale. Tullo Ostilio conquista la città di Alba Longa, trasferendone la popolazione a Roma. Tullo Ostilio è il primo sovrano ad espandere i domini di Roma oltre le mura della città. Durante il suo regno, i romani conquistano la città di Alba Longa. Il re di Roma fu Tullo Ostilio, che molto probabilmente prestò più attenzione agli aspetti militari della città, in quanto soldato e appartenente a una famiglia, la Gens Ostilia, con una lunga storia militare alle spalle. Si racconta infatti che Ostio Ostilio, nonno di Tullio Ostilio, abbia combattuto al fianco di Romolo contro i Sabini. Il quarto re, Anco Marzio, si dedica alla costruzione del primo ponte in legno sul fiume Tevere, il Sublicio. A lui è attribuita la fondazione della colonia di Ostia, utilizzata come porto di Roma. Espande i territori romani tramite accordi con le città vicine. Anco Marzio conquista il litorale di Ostia, dando a Roma uno sbocco sul mar Terreno. Successore di Tullio Ostilio e quarto re di Roma fu Anco Marzio, che prestò molta più attenzione agli aspetti politici della sua carica. Ricordato infatti principalmente per essere il fondatore della colonia di Ostia. E creare una colonia significa semplicemente creare un nuovo centro abitato con delle terre coltivabili, quindi fornire delle terre alla gente. Manco Marzio non è importante solo per questo, egli fu infatti anche l'ultimo re di sangue latino e sabino.